Santità, grazie davvero ancora per aver accettato il nostro invito, grazie per questa prima volta di un pontefice al G7, grazie per le sue parole che sono chiaramente fonte di ispirazione per ciascuno di noi e grazie anche per aver dato la sua disponibilità a rimanere per ascoltare gli interventi degli altri leader, perché insomma sappiamo che è molto impegnativo, quindi grazie davvero.